Il secondo giorno del test in Sepang è finito e il balancio del giorno è positivo per noi, soprattutto perché continuiamo a lavorare sulla bicicletta, abbiamo alcune parti diversi per questa season e in particolare continuiamo a lavorare sulla scelta e la cosa positiva è che abbiamo migliorato rispetto all'esterno in termini di tempo su un lapo con i nuovi tire, ma soprattutto sul ritmo ero più veloce di più veloce da l'esterno anche nel ritmo, quindi non è così male, la posizione fuori è abbastanza buona, soprattutto perché siamo meno di veloce di più e dietro Pedroso e Lorenzo che stanno davanti. Infatti inizia a freddo e abbiamo bisogno di stoppare prima perché il nostro target per questa mattina è di andare in 2-0-0, ma ci proveremo domani.